Maria Corsi Revisore-Pilessi Buonasera a tutti, è un onore e una gioia immensa essere qui con voi. Mamma mia, che teatro meraviglioso. Mi hanno dato un consiglio, mi hanno suggerito di incominciare con una breve presentazione mia e dei temi che andrò a trattare. Allora, ecco, ho pensato di incominciare con questa immagine che mostra tutta la mia balda prestanza atletica fin da bambino. Tranquilli, non mostrerò tutte le foto dell'album dell'infanzia. Però ci tenevo a partire da lì qui perché mi sono reso conto col senno di poi che questi sono stati anni importanti, tra i più formativi di tutta la mia vita, durante i quali io ho imparato alcune cose fondamentali. Ho imparato l'amore per la natura, ho imparato il valore dell'amicizia, ho imparato il piacere del gioco e il dispiacere degli sbuccioni nelle ginocchia, come tanti da noi, credo, da bambini. E anche, non meno importanti, sono stati gli anni a venire, durante i quali io ho scelto di impegnarmi come volontario con l'associazione Manitese, sono stato venti volte in Africa per seguire dei progetti di solidarietà. Abbiamo fatto tantissimi progetti, abbiamo fatto pozzi, scuole, ospedale, abbiamo cancellato da intere aree, soprattutto in Burkina Faso, ma non solo, la fame, la sete, l'analfabetismo, abbiamo fatto progetti per promuovere i diritti dei bambini, delle donne. È stata una gioia, una sensazione meravigliosa. Ho imparato tanto, ho cambiato il mio modo di vedere il mondo, ho capito che le cose possono cambiare. Ecco, facendo in Africa, ho compreso quindi i valori della solidarietà, della giustizia, della pace, dell'intercultura, ho maturato questa empatia verso i nostri fratelli vicini e lontani, che sono i valori che cerco di promuovere nella mia attività educativa e culturale, soprattutto con i ragazzi, ma non solo. È un impegno questo educativo che porta avanti, che cerco di portare avanti un po' come un gioco, perché io credo avesse ragione George Bernard Shaw quando diceva che noi non smettiamo di giocare perché invecchiamo, ma invecchiamo perché smettiamo di giocare. Se questo è vero, abbiamo l'elizia dell'eterna giovinezza. E io penso sia vero, perché devo dire, mi è capitato nel corso della mia vita di incontrare dei giovani, già le scuole medie, vecchi, tristi, e invece degli anziani, giovani. Ricordo per esempio una volta stavo per partire per l'Africa, e quindi pochi giorni prima ero all'ufficio vaccinazione internazionale, e ho incrociato lungo il corridoio una giovincella 96enne, che usciva mentre io stavo entrando, ed è stata bellissima la scena a cui ho assistito e che voglio condividere con voi. Quindi l'infermiere è uscita dalla porta e le ha corsa dietro per dirle un qualcosa che aveva dimenticato. È la procedura. L'infermiere, visibilmente imbarazzata, le ha detto, ecco, vedi signora, poi tra dieci anni ci sarebbe il richiamo. E lì, e la signora si è voltata, non ha battuto il ciglio e ha detto, e se mi dimentico? L'infermiere ha detto, non si preoccupi, glielo ricordiamo noi. E io ero lì che assistevo, non la conosco e ho detto, voglio invecchiare così, come lei. Ecco, allora se è il gioco che ci può mantenere giovani, ecco, vi chiederò quest'oggi di giocare con me, proprio come fanno i bambini. Io cerco di vivere in questo modo. Quali sono i temi, ecco, dimenticavo, i temi che vorrei trattare con voi oggi? Ecco, sono tre fondamentalmente. Cioè, come impariamo? Quindi i processi di apprendimento, qualche spunto di riflessione con umiltà. Come possiamo cambiare il nostro modo di pensare e le nostre abitudini? E come possiamo educare ed educarci alla felicità? Penso sia questo, in fin dei conti, il primo obiettivo della nostra vita. Ecco, allora, iniziamo con un gioco. Quindi vi chiederei di alzarvi subito. Volete giocare con me? Non ho, prima non ve l'ho chiesto. Allora, vi chiederei di alzarvi un attimo in piedi. Sì, sì, tutti, eh? Allora, è un gioco semplicissimo, forse qualcuno di voi l'avrà già fatto, insomma. Allora, vi chiedo molto semplicemente, tenete pure giù le braccia, appoggiate qualunque cosa che abbiate. Grazie, bravo. Oh mamma, sto teatro. Di incrociare le braccia. Ecco, ora guardate come le avete incrociate. Si commettono che di solito le incrociate sempre così, no? Guardate attentamente qual è la mano che sta sopra e quella che sta sotto. Ora, scrociatele, liberatele. E adesso proviamo a incrociarle al contrario. Come andiamo? Ce l'avete fatta tutti? Ok, allora, tre semplicissime considerazioni su questo piccolo esercizio. Primo, cambiare è possibile. Secondo, richiede un po' di impegno perché va contro le nostre abitudini che ci fanno arrugginire e ci irrigidiscono. Terzo, può anche essere divertente. Potete tornare a sedere. Ecco, dico, l'hanno detto chi cerca trova. Però, chi di noi, almeno una volta nella vita, non ha perso qualcosa in casa? Ora, dite la verità. Cioè, è una sensazione sgradevole. La cerchiamo ovunque. Magari ce l'abbiamo sotto al naso, ma non riusciamo proprio a ritrovarla. E più ci ostiniamo, e peggio è. Se invece lasciamo perdere per un attimo, facciamo alto, ritorniamo. Ecco, guarda, dov'era. Ho più qui sul tavolo. La stessa cosa accade quando, per esempio, non riusciamo a richiamare alla memoria una parola. Avete presente la sensazione di averla, si dice, sulla punta della lingua? Oppure per un musicista, quando ci incantiamo, che sia piano, forte, chitarra, non importa, qualunque strumento, ci incantiamo su una sequenza di note sbagliate, se ci intestardiamo nel tentativo, sforzandoci di richiamare alla memoria ciò che avevamo perduto, è peggio. Ci sono ricerche scientifiche, psicologiche su questo, che dimostrano come, assolutamente, i tentativi ripetuti di richiamare alla memoria un qualcosa, siano controproducenti. E' come se, paradossalmente, gli errori che facciamo in questa ricerca, quando vengono ripetuti tante volte, anche se poi vengono corretti, ci portassero, paradossalmente, proprio all'apprendimento dell'errore. E quindi, come dire, penso anche alla famosa frase che ci hanno detto cento volte da bambini, tutti noi, sbagliando si impara. Ecco, io la penso un po' come Charlie Brown al riguardo. Ecco, devo dire... Perché, se fosse vero che sbagliando si impara, noi dovremmo essere tutti perfetti. Come individui, come società, invece, continuiamo, pensateci, paradossalmente, a ripetere sempre gli stessi sbagli. Paradossalmente, facciamo le stesse litigate, uguale giorno prima, ma anche come società ripetiamo sempre gli stessi errori. Ecco, io credo che allora non sia vero. Cioè, fondamentalmente, noi impariamo in un altro modo. Noi impariamo dai nostri successi. Voglio farvi soltanto un esempio, che è l'intuizione da cui è partito il mio percorso di ricerca su questo tema. L'intuizione veniva poi dall'osservazione, da vent'anni di esperienza educativa con i ragazzi, e anche di esperienza di impegno sociale. Ecco, io comunque ho notato che i successi derivano fondamentalmente... scusate, l'apprendimento deriva fondamentalmente dai nostri successi. Vi faccio un esempio, che credo abbiamo condiviso tutti da bambini, quando abbiamo imparato ad andare in bici senza le rotelline. Ve lo ricordate? Io ricordo chiaramente il giorno in cui mio babbo disse, beh, mi chiede, ormai sei il grandicello, dai, puoi anche togliere le rotelline e proviamo. Babbo, non sta su. Ci ha provato, ci ha provato. Tra l'altro quello è un momento drammatico, perché uno si guarda intorno e vede che tutti sanno fare andare in bici. Per l'autostima è una bozza terribile, sono l'unico pirma nell'universo che non riesce a imparare ad andare in bici. Ma quando è che noi possiamo dire di avere davvero imparato ad andare in bici? Certo saremo caduti 50 volte, e ci siamo dovuti rialzare, ma il momento in cui possiamo dire davvero, davvero di avere imparato, è quando per la prima volta, magari in modo fortuito e un po' traballante, come capita ai bimbi, li vediamo talvolta al parco, siamo riusciti a rimanere in equilibrio. Perché è quel movimento che noi abbiamo memorizzato e imparato poi a replicare. Certo, ripeto, occorreva cadere e rialzarsi, cadere e rialzarsi, non c'è un'altra via che porti al successo se non questa. Un detto proprio giapponese, Zen, recita così, il successo nella vita è cadere nove volte e rialzarsi dieci. Quindi non dobbiamo avere paura di sbagliare, ce l'hanno detto anche questa mattina, questo non ci deve frenare o paralizzare, ma nella consapevolezza che poi sono i successi che ci portano a un apprendimento rinforzato. Anche su questo, ma non voglio tediarvi, ci sono infinite ricerche sia etologiche, sugli animali, sia psicologiche e neurofisiologiche che dimostrano come l'apprendimento, per esempio la memoria di un successo, è sette volte più duratura nel nostro cervello rispetto alla memoria di un insuccesso. Cioè l'idea che dobbiamo per forza bruciarci la mano per imparare, ecco, non è fondata. Allora, ecco, questo è fondamentale. L'altro aspetto che volevo dire è che noi non impariamo solo dai nostri successi, ma anche, e questo è un passaggio evolutivo decisivo, dai successi altrui. Se capiamo che noi possiamo imparare dai successi altrui, questo accelera enormemente il nostro processo. E devo dire, se ci pensiamo un attimo, ci accorgiamo che è sempre stato così, non è niente di nuovo. Quello che io vi propongo è ciò che è sempre caduto nel corso della storia. Noi siamo in realtà il frutto di un'eredità culturale, di popoli che per centinaia di anni, per secoli, millenni, si sono scambiati tutto ciò che si poteva scambiare. Idee, scoperte, invenzioni, cibi, arte, musica, danza, spettacolo, scienza, mogli, tutto quello che si poteva scambiare. Grazie. Ecco, allora, da tutti i punti di vista, io scherzando con i ragazzi faccio una scommessa e dico, scommetto che parlate meglio l'arbo che l'inglese, effettivamente parliamo benissimo l'arbo, noi usiamo nella nostra lingua italiana centinaia di parole mutuate da altre lingue, dall'arbo al gotico, al longobardo, al franco, all'aramaico, lo stesso vale per i giochi, fin da bambini abbiamo giocato con le trottole egizie, con lo yo-yo delle Filippine, l'aquilone cinese, con la dama egizia, gli scacchi persiani, tutta la nostra cucina, l'abbigliamento, tutto. Noi siamo il frutto di questo scambio interculturale che ci ha arricchito per secoli e millenni portandoci dove siamo ora. io ci tengo a dire una cosa, fin dall'antichità è dalla ruota dei Sumeri, al timone dei Fenici, alla bussola dei Cinesi, fino ad arrivare alla birra che i Sumeri producevano 4.000 anni prima dei tedeschi, o alla cioccolata in tassa che gli Astechi producevano 1.200 anni prima degli Svizzeri. questo siamo noi. Io l'ho riassunto nell'ultimo libro che ho scritto con questa espressione, semplicissima, 1 più 1 uguale a 3. Ed è magia, lo capite bene che non funziona così con i soldi, sarebbe bello, no? O con gli oggetti. No, la cultura è l'unica cosa che davvero cresce globalmente quando ce la scambiamo. Faccio un esempio per non essere lungo, perché devo dire che il format TED mi sta come una camicia a 7 taglie più piccole. I 15 minuti sono faticosi per me. Pensate soltanto, ecco ho dimenticato una slide, questa ve la faccio vedere appunto, potete guardarla sempre sui successi. Pensate soltanto, scusate che la slide mi ha fatto perdere il filo, potete anche quello dire ma non è vietato, ecco, parlerò di talenti e limiti, uno dei miei limiti è la poca memoria, portate pazienza. Ecco, una cosa che per me è molto importante è questa qua appunto del 1 più 1 uguale a 3, vi faccio un esempio soltanto per non dilungarmi. Pensate quando Gutenberg inventa la stampa caratteri mobili. Sapete com'è nata? Lui unisce due idee molto lontane fra loro, cioè gli stampi per il cogno delle monete e la pressa per l'uva, per fare il vino. e nasce la stampa caratteri mobili. Ora abbiamo smesso di battere moneta? Non mi pare. Abbiamo smesso di produrre il vino? Io ce ne scampi. Ma abbiamo anche la stampa caratteri mobili, 1 più 1 uguale a 3. La sintesi combinatoria è alla base del processo creativo che ha portato tutta l'evoluzione nella storia umana, dalla clava all'iPad. Questa è la base del processo creativo. E su questo noi dovremmo, secondo me, lavorare. Ecco, faccio una piccola distinzione che trovo importante dal punto di vista lessicale. Ho utilizzato fino ad ora, in maniera abbastanza intercambiabile, il termine sbagliare e errare. Non ho fatto bene. Perché in realtà hanno due etimologie molto diverse. Sbagliare deriva dal latino varius, cangiante, abbagliante, che ci distrae. Sbagliamo quando siamo distratti, quando non siamo presenti. Invece errare, come diceva anche questa mattina l'amico qui in prima fila, errare significa letteralmente andare senza una meta, vagabondare. E questo sì che invece può essere molto fruttuoso e portarci a scoprire tantissime cose che non avevamo neanche previsto, che non stavamo cercando. È quello che viene normalmente chiamato serendipity, richiamato anche nel bellissimo intervento in apertura di questo TED. La serendipity che cos'è? Significa riuscire a cogliere ciò che casualmente ci capita lungo il cammino, essendo presenti, appunto, e da qui sono nate alcune delle cose più straordinarie nel corso della storia. Ci hanno ricordato questa mattina la famosa mela caduta in testa a Newton che gli ispirò la legge di gravità universale, ma pensate a Archimede, il principio di Archimede, quando lui uscì fuori dalla vasca da bagno gridando Eureka! Cioè, dalla penicillina al PAP test, dall'insulina all'anestesia, passando attraverso, non so, la gravitazione universale, piuttosto che la corrente elettrica, mi vengono in mente anche scoperte molto materiali, come il nylon, la pentolante aderente, il velcro, il post-it, tutte queste cose sono il frutto di serendipity, cioè di scoperte fatte da persone che non stavano cercando quello o che non stavano cercando affatto, ma che erano presenti nel momento. Lo sbaglio sarebbe stato essere distratti, quindi non riuscire a cogliere ciò che lungo il cammino ci offriva una possibilità di intuizione, così, come è stato detto anche prima. Ecco, un'altra precisazione che vorrei fare. Molte di queste scoperte sono state fatte da persone che nella vita si occupavano di tutt'altro, cioè noi siamo abituati a pensare che ci siano i professionisti, gli specialisti, e sono loro che ricercano e trovano. Salvo poi scoprire che, ad esempio, non so, la pellicola Kodakron fu scoperta, inventata, diciamo, da un musicista. Che so, il parchimetro da un giornalista, il telefono automatico da un impresario di pompe funebri, la penna sfera da uno scultore, e potrei continuare. Quindi, capite, in realtà non c'è qualcuno a cui possiamo delegare. Mi è piaciuto quando prima De Angelis ha detto io ho già fatto due imprese, adesso fate una anche voi. Cioè, siamo tutti indispensabili, questo mi sembra fondamentale. Allora dobbiamo ripartire mettendo al centro le relazioni, il miracolo delle relazioni, la poesia, la meraviglia che c'è nelle relazioni umane. Quindi dobbiamo, secondo me, liberarci dalle catene di un consumismo che ci ruba anzitutto il tempo per gli affetti, per gli hobby, per i sogni, dove è Marinka, e invece riappropriarci del piacere e della meraviglia che c'è nelle relazioni. Guardate un po' questa vignetta che volevo condividere con voi. Che meraviglia che è. Non è fantastica. Secondo me è di una poesia eccezionale. Dobbiamo ripartire da questo, dalle nostre relazioni che devono essere sincere. Ho scoperto da poco che sincero deriva dal latino sine cera e cioè ciò che in cui riferimento alla diciamo ha l'abitudine degli scultori di camuffare, nascondere gli errori nelle proprie opere con la cera. Quindi è sincero colui che non ha nulla da nascondere. E quindi questo ci permette di avere una comunicazione che sia fatta di scambio e non una comunicazione volta alla dominazione. Perché è nella diversità, nell'incontro con gli altri che noi scopriamo anche noi stessi. Spesso a scuola io dipingo, scrivo con un gessetto sul muro bianco e i ragazzi rimangono stupiti. Proprio per farli riflettere sul valore della diversità. Noi siamo come il gessetto, scopriamo noi stessi solo attraverso gli altri. Ognuno è un miracolo, ognuno è perfetto con i suoi limiti e talenti. L'importante è che non scimmiottiamo però come dire gli altri, non cerchiamo di imitare ecco come in questo caso. E allora il compito dell'educazione dovrebbe essere quello di aiutarci a scoprire i nostri talenti. Educare significa letteralmente tirare fuori, c'è già tutto dentro. I valori sono già tutti dentro. Noi non abbiamo bisogno di mettere nulla dentro. Il valore della pace, il valore della giustizia, il valore della libertà sono già dentro ad ognuno di noi. Si tratta di tirarli fuori come in questo video meraviglioso che ora vi vorrei mostrare. Il tempo è scaduto. Come devo fare? Va bene. Talmente è scaduto che non mi fanno neanche partire. No, ecco, guardatelo. Tu, qui. È l'esperimento con parte. Guardate che meraviglia. Qui. Vamos a fare unas fotos. Lo che pasa è che il fotografo si ha retrasato. Io me voy a ir a buscare al fotografo e poi vi facciamo le foto mentre voi potete andare merendando, vale? Io me voy e vengo in 5 minuti. 5. Vale. Vale. A ver, quando io me valla, eh? Contala a 3. Uno, dos, Tres. Tres. Faccio notare l'età, eh? Questo siamo noi. Questo è l'animo umano. La condivisione è innata. Vedete, non è neanche chi è senza che chiede, è l'altro che offre spontaneamente. Allora noi forse dovremmo imparare dai bambini. A parte questo, furbetto. Dovremmo imparare dai nostri bambini a condividere. Fermo perché davvero siamo oltre con i tempi. Dovremmo imparare dai bambini e la creatività per me è la capacità di rievocare, di risvegliare il bambino che c'è dentro di noi. Guardate questa immagine, ecco vedete la nonnetta che non riesce a resistere alla tentazione della campana, del gioco della campana. E questo può essere applicato in mille modi per cercare di, non so, invitarci a una corretta gestione dei rifiuti, attraversare le strisce. questa è la creatività come capacità di trasformare i limiti in opportunità. Guardate, vado, mi invito alla lettura, una campagna in Canada per il risparmio idrico, contro la discriminazione, per l'ambiente, ecco qui vedete le finte buche adesive per invitare a rallentare. Noi in Italia siamo oltre, siamo già al 3D, devo dire. questa è commovente, permettetemi, scusate che ho sforato già i tempi, aiutatemi, non applaudite più fino alla fine. Questa è una macchina per la risonanza magnetica pediatrica trasformata in un galeone dei pirati, è commovente. E allora, io credo che dobbiamo davvero trasformare i limiti, i problemi in occasione. Qualcuno ha detto non avere paura delle difficoltà, l'aquilone si alza solo col vento contrario, mai col vento a favore. Io ho trovato questa immagine che secondo me descrive il concetto ancora meglio. E allora, grazie, lo stupore, la meraviglia sono la chiave per il cambiamento perché noi non siamo nati per soffrire, siamo stati creati per essere felici. Quando mi invitano a parlare del risparmio energetico io mostro sempre questa immagine. Questo è il vero risparmio energetico. Guardate un bambino neonato quando è nella culla che dorme sorride, sorride. Questo siamo noi, questo siamo noi. E allora, concludo perché stanno per entrare con la motosega, la scuola ci dovrebbe liberare dalle nostre catene e permetterci di tirare fuori la meraviglia che è in noi. Non dimenticatelo. Grazie mille, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie.